I lavori per realizzare la Darsena Europa di Livorno, grazie alla revisione del progetto, prenderanno il via nel 2018 e termineranno nel 2022, risparmiando 4 anni rispetto alla scadenza del 2026 prevista inizialmente. Ad annunciare la novità è stato il presidente della regione toscana Enrico Rossi al termine dell'incontro per l'accordo di programma sulla nuova infrastruttura. Fra le novità progettuali, l'escavo della Darsena ha portato a 20 metri, mentre non ci sono variazioni per la piattaforma che resta di 62 ettari. Le novità più importanti è che nel 2018 potremo partire, potremo partire sia con la parte pubblica che a questo punto viene messa a parte, verrà progettata dall'autorità portuale e messa a gara dall'autorità portuale, sia con la parte del privato perché già i sedimenti che ci sono sulla Darsena Europa consentono nel 2018 di iniziare i lavori per quanto riguarda il privato. Nel 2018 partiranno anche i lavori per lo scavalco ferroviario. Ferrovie predisporrà anche il progetto preliminare dell'allungamento della linea dell'interporto verso la linea con le salvetti Vada, facendo diventare il porto di Livorno il più attrezzato per portare le merci sulle linee ferroviarie nazionali. Sempre Ferrovie dello Stato ci conferma, dopo un lavoro lungo che abbiamo fatto che investirà a partire sempre dal 2018. 700 milioni per fare il buco adeguato nelle gallerie della vecchia Appenninica, adesso lasciata abbandonata, in gran parte abbandonata perché sostituita dall'alta velocità. Noi abbiamo fatto già un accordo con l'Emilia Romagna. Abbiamo provato davvero a rimettere in moto le cose. Mi pare che ci siano tutti gli elementi per dire che oggi è una giornata molto positiva per la città di Livorno e per la Toscana.